ArteVetrinaProject rappresenta oggi un punto di riferimento per il mercato luxury a livello internazionale. Ci occupiamo dell'ideazione e della progettazione e dell'allestimento di window display e di fashion show, in particolar modo con una grande esperienza operativa per il mercato europeo quanto del Middle East e degli Emirati Arabi. I grandi salti in avanti, i grandi cambiamenti sono stati nel 2000 la creazione di uno studio associato con Spazio SP Architetti e dalla collaborazione decennale con il gruppo G-Print è nata nel 2014 la divisione Coolest. Coolest è un progetto condiviso che rappresenta l'unico produttore di window display, scenografie per vetrine e installazioni completamente made in Italy. Il nostro prodotto nasce dall'idea creativa di ArteVetrinaProject, interpretato con materiali e soluzioni costruttive che rispecchino i concetti e le emozioni trasmesse. Siamo in grado di realizzare qualsiasi tipo di prodotto in quanto vantiamo tutta la filiera produttiva all'interno e quindi anche poterla spedire ed installare praticamente in tutto il mondo. I prodotti dello studio nascono da un'attenta e profonda analisi delle esigenze di ciascun cliente. Quasi come un'opera sartoriale, le idee e la creatività sviluppate dal nostro team vengono pensate per interpretare ed esaltare in maniera originale ogni singolo brand. Lavorare per il progetto Coolest, ossia la partnership tra ArteVetrinaProject e Gprint, significa appartenere a un gruppo di professionisti dall'animo estremamente creativo, che ogni giorno si impegna a fornire ai propri clienti le migliori soluzioni possibili per esaltare il loro brand. Con un occhio sempre vigile alle rapide evoluzioni del mondo del fashion e del retail, tenendo sempre ferme come base del proprio lavoro la grande ricerca, la cura del dettaglio ed una produzione assolutamente made in Italy. Grazie Grazie